Federico Garzia Lorca è forse il più grande poeta spagnolo di tutti i tempi e fu la prima e più celebre vittima della guerra civile perché Garzia Lorca muore pochissimo dopo lo scoppio della guerra, la guerra scoppia il 18 luglio del 36 e Federico come lo chiamavano gli amici ma anche coloro che non gli erano poi così vicini, il suo nome era così, il nome per eccellenza del poeta Federico muore fucilato a pochi chilometri da Granada, dalla sua città natale al mattino, nelle prime ore del mattino del 19 agosto del 36, alcuni studiosi retrodatano al 18 agosto del 36 e appunto fucilato e gettato in una fossa comune La morte di Lorca ha immediatamente una risonanza sia nazionale che internazionale Lorca, non ho il tempo per soffermarmi sui motivi della morte di Lorca e ci sono molti studi, sono uscite molte monografie anche proprio sui pochissimi giorni che condussero poi alla morte di Lorca perché fino a poco più di un mese prima della sua morte Lorca si trovava a Madrid in mezzo ad altri grandi poeti della sua generazione come per esempio Luis Cernuda che poi menzionerò perché è uno degli autori che scrivono elegie, tributi alla morte del carissimo amico e si trovava appunto a Madrid, Lorca a metà luglio del 36 insieme a Cernuda, insieme a un altro poeta, un altro grande poeta di questo gruppo di poeti amici che era Vicente Alexandre e ad altre figure come per esempio il console cileno Carlos Morla Lynch che ricorda tra l'altro gli ultimi mesi della vita di Lorca a Madrid in una splendida autobiografia che si intitola In Spagna con Federico Garzia Lorca che pubblicò nel 57 e Lorca era stato vicino alla seconda repubblica per esempio la prima foto che vi propongo è quella che lo vede impegnato in una operazione culturale importante che prende avvio nel 1932 finanziata da uno dei principali ministri del presidente del governo più importante, più noto della seconda repubblica che è Emanuele Asagna il ministro appunto Fernando de los Rios, ministro di istruzione pubblica che fu amico e molto vicino a Lorca e appunto Fernando de los Rios nel 32 aiuta Lorca a fondare e a far vivere poi con i finanziamenti pubblici una compagnia teatrale una compagnia teatrale che prende il nome della Barraca questa compagnia teatrale diretta da Lorca aveva il compito di diffondere le grandi opere della tradizione letteraria spagnola soprattutto le opere teatrali del grande Seicento di Lope de Vega, di Calderon della Varca, di Tirso de Molina dei grandi drammaturghi barocchi degli Shakespeare insomma spagnoli di portare appunto le rappresentazioni di questi grandi drammi barocchi nella provincia, nei paesini dove la gente comune non aveva mai potuto assistere a spettacoli teatrali e quindi questo progetto della Barraca e qui vediamo appunto una foto molto nota di Lorca con la tuta che indossavano questi attori amateurs molti di loro erano anche studenti universitari appunto Lorca porta nella provincia la cultura l'arte, la cultura e si inserisce questo progetto della Barraca nelle cosiddette missioni pedagogiche cioè in tutta una serie di iniziative che intraprende la Seconda Repubblica per diffondere la cultura tra la popolazione tra le persone che mai avevano potuto accedervi poi ci sono anche altre dichiarazioni di Lorca a favore della Repubblica in anni successivi per esempio nel 1935 nel novembre del 1935 Lorca firma un manifesto antifascista insieme ad altri notissimi poeti e scrittori del momento come per esempio Antonio Macciado Antonio Macciado che è uno dei grandi maestri della poesia del novecento spagnolo scrive tra gli altri forse la più nota elegia alla morte di Lorca che si intitola Il crimen fu in Granada cioè il crimine avvenne a Granada ma accanto a Macciado subito dopo la morte di Lorca si affrettano tutti gli amici di Lorca e tutti i suoi compagni di generazione a scrivere e a pubblicare elegie, tributi in morte per celebrare il loro grande amico scomparso Per esempio una iniziativa importante è quella che avviene a Valencia nell'estate del 1937 Valencia era in quei momenti la sede temporanea del governo repubblicano quindi siamo già ovviamente in piena guerra e durante il secondo congresso internazionale degli scrittori antifascisti al quale partecipano figure come Pablo Neruda, Raffaele Alberti lo stesso Antonio Macciado nasce un'iniziativa che è quella di omaggiare attraverso una pubblicazione Federico il nome di Federico la memoria di Federico alcuni degli interventi sia in prosa che in versi dedicati a Federico escono prima su una rivista così impronta politico-letteraria che è Ora di Spagna che ebbe una vita molto breve tra il 1937 e il 1938 e poi però molti di questi componimenti trovano una collocazione editoriale in un libro che si intitola Omenaje e qui Omenaje al poeta Garzia Lorca contro la sua morte contro la sua morte che si pubblica appunto a Valencia nello stesso 1937 nell'omenaje esce l'elegia di Macciado che vi dicevo poi escono anche i componimenti di Raffaele Alberti di altri poeti forse meno noti in Italia come Miguel Hernández che muore subito dopo pochissimi anni dopo la fine della guerra civile Vicente Alexandre Pablo Neruda eccetera però oggi molto brevemente vi vorrei parlare di due elegie di due elegie che forse sono tra le più belle oltre a quella di Macciado scritte in memoria di Lorca sono quella di Sernuda a un poeta muerto a un poeta morto Sernuda fu molto amico di Lorca a partire dal 1927 quando questo gruppo di poeti amici che costituiscono poi quella che entrerà nella storia come la cosiddetta generazione del 27 per tutta una serie di coincidenze coincidenze di commemorazioni di cui purtroppo non ho il tempo di parlare comunque si conoscono alla fine degli anni 20 e subito stringono una forte amicizia un forte sodalizio che è ulteriormente rafforzato da tutta una serie di concomitanze di convergenze di tipo poetico soprattutto ma anche ideologico in fondo per esempio l'atteggiamento del poeta nei confronti della società la società ostile che appunto sempre contrasta il poeta l'omosessualità che li accomuna che accomuna Lorca e Sernuda e che entrambi vivono con grande tormento Sernuda in maniera molto rabbiosa e Federico in modo intimo però molto tormentato come si vede poi dalle sue opere dalla sua poesia e anche dal suo teatro e l'amore per la creazione metaforica per la ricostruzione della parola che è un po' un topos un po' una costante di tutta questa generazione di poeti cioè la riscoperta della parola attraverso la metafora l'elegia splendida molto estesa anche che Sernuda scrive a Lorca viene pubblicata appunto sulla rivista Ora de Spagna nel sesto numero nel 1937 e poi fu pubblicata in una collana no collana in una collezione una raccolta poetica da Sernuda successivamente il modello del testo di Sernuda è evidentemente che è un'elegia è evidentemente l'elegia classica l'elegia latina di età augustea i motivi principali che poi sono i motivi che accomunano tutte le elegie scritte a Lorca sono il compianto per la morte per l'amico appunto la disperazione per la perdita dell'amico l'apologia dell'amico e infine la consolazione la consolatio la consolatio che è si unisce al culto che avevano entrambi sia Lorca che Sernuda al culto per la poesia quindi l'unica l'unica arte che sarà in grado di eternare il nome di Federico sarà la poesia l'unica cosa che sarà in grado appunto di rendere eterno Federico saranno i versi degli amici che lo piangono è un testo molto complesso molto antitetico pieno di parallelismi di metafore splendide come per esempio quella del tutta una serie di metafore vegetali che si legano alla figura di Lorca alla frescura al verdore di Lorca che portava allegria che portava buon umore dovunque andasse perché gli andalusi dicevano che Lorca aveva angel tenere angel in andaluso vuol dire avere qualche cosa di speciale una persona che tiene angel è una persona che ha un fascino al di sopra della norma ecco e appunto l'elegia di Sernuda si conclude con questa fiducia nel valore ternante della poesia e nella consapevolezza che il sacrificio di Lorca non è stato non è stato inutile e quindi assurge Lorca alla metafora della poesia e del poeta del poeta comunque sempre tormentato del poeta emarginato del poeta come dire sospinto verso i margini della società l'ultima elegia su cui mi soffermo è quella di Emilio Prados Emilio Prados è un poeta meno noto è un cosiddetto poeta minore di questa generazione del 27 un poeta malaghegno però in realtà un grande poeta un poeta molto raffinato molto colto anche lui cultore della metafora che appunto nel in ora di Spagna ma poi a sua cura poi esce questo omaggio di cui vi dicevo che viene pubblicato a Valencia pubblica nell'omaggio a Lorca la estanza e la morte con Federico Garzia Lorca cioè il soggiorno nella morte con Federico Garzia Lorca Prados fa un'operazione a mio avviso molto profonda molto acuta perché perché suddivide il suo lungo componimento in quattro parti in quattro parti che molto probabilmente riecheggiano la quadripartizione di un'opera tra le ultime di Lorca che è il compianto per Ignazio Sanchez Mejías che si pubblicò nel 35 e che è un compianto che Lorca scrive per un suo carissimo amico torero un torero intellettuale un torero poeta che muore incornato dal toro durante una corrida il compianto per Ignazio Sanchez Mejías è suddiviso in quattro parti e conclude Lorca nell'ultima parte nella quarta parte del lianto del compianto dicendo così le persone che non ti conoscono cioè che ti guardano da fuori che non hanno vissuto con te che non hanno condiviso con te nulla non ti capiranno mai e non ti avranno mai conosciuto non ti conoscono dice così Lorca non te conosce nadie non ti conosce nessuno no però io te canto ma io ti canto e quindi poiché ti conoscevo in profondità sono in grado di cantarti e di renderti eterno quindi tu sarai eterno anche perché la mia poesia cerca comunque di renderti eterno allo stesso un po' sulla scia di quello che dice Lorca al suo amico Torero Emilio Prados appunto suddivide in quattro parti questa splendida elegia e va dalla perdita dell'amico alla busca cioè alla ricerca dell'amico infruttuosa nel mondo in un mondo che è sconvolto dalla guerra dalla guerra fratricida dalla guerra brutale a cui tra l'altro anche Fernuda e molti altri autori delle leggi a Lorca fanno riferimento al caos alla brutalità alla violenza allo stato puro che si è impossessata della Spagna e degli spagnoli quindi Prados cerca inutilmente in questo mondo tremendo e caotico della guerra Lorca ovviamente non lo trova e allora che cosa fa va all'incontro con l'amico con l'amico morto quindi va al di là della realtà nel mondo della morte dove ritroverà il suo amico nell'incontro nell'enquentro in una dimensione che ha molti elementi che prendono spunto dalla grande produzione mistica dei grandi mistici Santa Teresa San Giovanni della Croce cioè perde la dimensione dei sensi e si come dire fa questo viaggio intimo tutto interiore alla ricerca dell'amico che ritrova nell'ultima sezione dell'Elegia in permanenza permanenza è in uno stato assieme all'amico di comunione quasi di comunione mistica di unione mistica con l'amico nel sonno della morte nel somnium mortis dove ritrova Federico e quindi solo in questa dimensione eterna e ovviamente eternante della poesia i due amici i due poeti si possono ritrovare dice nella alla fine della 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 lirica dice Prados parole molto simili a quelle che l'orca diceva appunto a Ignazio al Torero cioè quel mondo che sta fuori che è rimasto fuori non ti capirà non ti conoscerà non ti conosce io sì soprattutto adesso che sono rientrato in questa dimensione di morte e di intimità a ritrovarti e quindi fondamentalmente e con questo concludo la la lirica di Prados come quella di Sernuda come quella di di Maciado e di molti altri scommette appunto sull'eternità dell'arte sull'eternità che dà la parola poetica e sul fatto che in fondo il grande poeta e la sua grande poesia vanno al di là della morte e vincono sulla morte Sernuda finisce appunto parlando della vittoria della grande vittoria che il poeta dopo avere tanto sofferto perseguitato e marginato durante la vita la grande vittoria che il poeta celebra proprio anche anche nella dimensione della morte quindi la poesia vince su tutto anche sulla sulla nostra grande nemica che è la morte